Ciao ragazzi, una piccola parentesi natalizia, volevo mostrarvi casa mia addobbata, cioè non tutta la casa, ma il presepe e l'albero che è in salotto, appena si entra si nota, eccolo qui, vi faccio la panoramica, è molto molto grosso, lì c'è la capanna, questa Maria, purtroppo non si vede bene, qua tutte le pecorelle, alcune abbattute dai gatti che saltano sul presepe giustamente, le montagne sono questa linea qua, abbiamo dovuto farle così basse perché il mio gatto ci va a dormire sopra e di conseguenza non si può fare diversamente, ci abbiamo messo dei mattoni, le abbiamo rivestite, tutto questo capolavoro l'ha fatto la mia mamma che è bravissima, ogni anno lei fa il presepe e io faccio l'albero, c'è questo qua, è un albero sintetico, lassù in cima c'è l'angelo, eccolo qua, bellissimo, che abbiamo comprato anni fa, e poi ci sono delle palle di vetro decorate, degli angeli di resina, degli spaventapasseri di faccia di paglia, questa è la mia decorazione preferita, che è una stella polare in resina, vedete qua che bella, eccola qua, l'ho staccata, è bellissima, ogni tanto ci sono delle palline in terra perché i miei gatti le buttano giù e quindi ci tocca sempre raccoglierle, vi auguro un buon Natale, ciao! Grazie a tutti!